Noi pensavamo fosse strumentale effettivamente da parte del PD proporre la questione di Piedemontana proprio perché metto in difficoltà la Lega e il Movimento 5 Stelle che adesso dovranno decidere bene o male a livello governativo di cosa fare anche di quest'opera, però mi devo ricredere, probabilmente è peggio la situazione, c'è proprio una visione miope e vecchia di cosa bisogna fare per sviluppare il paese, parla ancora appunto di crescita, si parla di crescita felice senza sapere che cosa sia e senza averne una minima idea. Si parla che il futuro e la crescita e lo sviluppo sono ancora strade o spostare le merci da un posto all'altro, quello a casa mia è inquinamento e problematiche sul territorio e non è sviluppo ma è un finto sviluppo che è quello che ci ha portato ad oggi ai danni che stiamo facendo al nostro territorio e ai cittadini. La Lombardia si è detto vive di sviluppo, la consigliera Rozza vive di sviluppo economico, trasporto merci, infrastrutture, però muore di inquinamento la Lombardia, forse ce lo dobbiamo ricordare e dobbiamo anche calcolare questi costi all'interno delle opere che andiamo a concepire per il territorio. E' stato detto che Pedemontana l'aspettiamo dal 54, il problema è che l'abbiamo anche concepita nel 54 e la vogliamo fare nel 2018, forse è cambiato qualcosa sul territorio, forse qualcosa dobbiamo rivederlo e non mi pare sia stato rivisto. Pedemontana, parliamoci chiaro, nei vari articoli che sono usciti sui giornali si è anche detto che sono arrivati a Seveso e hanno scoperto che c'era il problema della diossina, non avevano calcolato i costi per bonificarla, strano, non lo sapeva nessuno. Cioè siamo di fronte a queste problematiche, problematiche che sul territorio pesano poi sui cittadini, sulla loro salute, ma questa salute non viene mai quantificata all'interno dei costi di queste opere, l'impatto sulla salute. Si è parlato di serietà di non buttare i soldi, però quando mi accorgo che magari un progetto va oltre i costi stabiliti, va oltre i patti che si sono presi con i territori, forse è meglio fermarsi, perché c'è anche la saggezza di chi può ritornare sulle sue idee. Non è che una volta presa una direzione si va diretti anche se si vede un muro, forse ci si ferma e ci si ripensa, parliamone. E ricordo alla Giunta e ai colleghi della Lega, abbiamo anche un programma di governo che dice a livello nazionale che le opere andranno riviste in base ai costi e benefici, quindi io eviterei di prendere degli impegni seri su Pedemontana in un'aula consigliare per quanto noi rappresentiamo il territorio ed è giusto che ci esprimiamo, ma valutiamolo in base a dei dati tecnici e dei dati, dei valori concreti, non penso che andare avanti sia meglio rispetto al costo di fermarsi, perché il penso non sta da nessuna parte, noi siamo degli amministratori, dobbiamo portare dei dati, se dimostriamo che è più conveniente per il Paese portare avanti Pedemontana, andrà avanti Pedemontana. Ad oggi a me risulta che abbiamo problemi con le bonifiche da diossina, abbiamo appunto il contenzioso con Strabac che ha bloccato tutto, quindi non abbiamo neanche chi porta avanti l'opera, abbiamo il consumo di suolo, di territorio, la distruzione di ecosistemi subalpini della zona che non è stata neanche presa in considerazione e magari poi si parla di mitigazioni e compensazioni ambientali che fanno veramente ridere e che comunque sarebbero assicurate per i Paesi dove si è già fatto una tratta dell'opera, quindi non è che perdono qualcosa, chi ha l'opera già sul territorio, comunque si deve vedere e pretendo che si veda riconosciuta la mitigazione e la compensazione perché l'opera comunque l'ha subita. Poi abbiamo che questa è l'autostrada più cara per chilometro costruito, abbiamo che è l'autostrada più cara per pedaggio, abbiamo defiscalizzazioni che sono pesate sulla costruzione di Pedemontana, insomma io direi c'è da valutare, c'è da valutare questi dati e metterli insieme e poi prendere una decisione che sia nell'interesse dei cittadini, per questo chiediamo il voto per parti separate perché il secondo e il terzo punto non c'entrano niente con la questione pedemontana, è per questo diciamo che è strumentale questa mozione, perché si è messa come spesso accade con il PD due problematiche completamente diverse all'interno della stessa mozione come quando è accaduto per le banche e per il decreto IMU e si è messo tutto insieme per dire se non accetti uno non accetti neanche l'altro oppure se sei d'accordo con uno devi accettare anche l'altro, questo non è il nostro sistema, votiamo per parti separate e noi voteremo contrario per la questione di Pedemontana perché crediamo che sia da analizzare e approfondire attentamente anche a livello governativo e voteremo a favore per il trasporto pubblico locale e per le opere su ferro che sono necessarie ai cittadini. Grazie Grazie Grazie.